e adesso è il momento della Saga Gucci al volteggio rondata flick, salto teso, due avvitamenti, quasi stoppato, brava, molto bene infatti è estremamente gioiosa e felice, ma lo è di suo, si vede che è comunque molto estroversa un bel salto, è la prima che stoppa l'arrivo brava, ha mosso soltanto prima mentre stavo quasi per salutare la giuria poi il piede, molto solare 14.20, 9.20 di esecuzione e la difficoltà è stata valutata dunque 5 da dire che è una ginnasta completa lei non disputerà soltanto le parallele mentre la Carey 12.80 con penalità di 0.10 è una ginnasta